Voto, serve Severini sulla destra, in affanno in posizione di casa Severini, bellissima la progressione, palla al centro, la rovesciata e c'è il gol, incredibile! La ciliegina sulla torta di una prestazione eccellente da parte di Peleggi che sta dando dimostrazione di una tecnica superba e arriva la rovesciata, gol spettacolare che finirà in bacheca.